Salve a tutti i bolidi, io sono Obugul e vi do il benvenuto in un nuovo video sul mio canale. Faccio questo video non avendo però scritto né un copione e né una traccia. Sarà un video più che altro che viene fuori di getto come una dragata. Grazie per avermi fatto i complimenti per questa bellissima maglia che trovate sul sito di Pampling e con il codice sconto Obugul5 potreste portare a casa con un relativo scontro molto importante. Soprattutto adesso che andiamo verso l'estate ce ne sono tantissime altre. Pampling in descrizione. Vi invito a mantenere la calma perché qui oggi noi faremo una cosa che normalmente tanta gente odia. Ma lo argomenteremo. Si potrebbe dire che distruggeremo Seven Deadly Sinners. Ma perché dico distruggeremo? Allora in questo video però sarò da solo. Ma avrò il supporto morale di Giorgione. Io Giorgione la Giorgio Battisti. Ragazzi probabilmente molti di voi lo conoscono per... Aspettate un attimo che vado a prendere. Lui... Esattamente raga Death Shield il manga di Giorgio Battisti e Luca Molinaro. Il manga di Mangaka. Dove Mangaka non fa il Mangaka? No dai sto scherzando sto scherzando era una battuta becera. Ma andiamo agli albori. Durante la live o almeno una delle live animetubers sul canale di Ronin che vi spoiler ho in mente di fare anche qui. Chissà quante cose fiche. C'è stata una domanda relativa a Seven Deadly Sinners. Una domanda che era rivolta un po' a tutti. Questa domanda ha colpito molto anche me ed era cosa ne pensiamo di Seven Deadly Sinners. Adesso non mi ricordo a chi è piaciuto a chi no però mi ricordo una persona a cui non è piaciuto. Hanno detto la loro io ho compreso. Quando è toccato a Giorgio avrei voluto essere lì con lui per vedere la reazione della gente. C'ero ma volevo vederla dal suo punto di vista proprio sul suo computer. Giorgio ha distrutto l'opera da un punto di vista narrativo soprattutto ma mi sembra anche da un punto di vista di disegni. Forse nei commenti mi specificherà meglio lui però io mi sono concentrato molto sul sull'aspetto ovviamente narrativo dell'opera. I sette peccati capitali Nanatsu no Tensai. No Tensei. Tensai. Ci sono delle problematiche molto importanti che ha analizzato Giorgio. Per chi non lo sapesse o per chi non ci fosse ne ancora arrivato Giorgio non è uno che si è alzato la mattina e ha detto oggi io diventerò un esperto di manga. Lui le insegna all'università. Infatti in descrizione vi metterò magari il link del suo canale YouTube, il suo appunto profilo Instagram ma soprattutto vi metterò in descrizione il video del suo percorso creativo. Gli studi che ha fatto, che ha fatto pure in Giappone per imparare gli stili, studiarli, provarli proprio sulla sua mano, insomma capire tutto quello che c'è dietro anche alla pubblicazione di un manga. Quindi non è uno stronzo come me che fa dei video su YouTube. Ok lo è, magari sei meno stronzo di me. Però qualitativamente c'è della carta, dalle mie parti dice carta che parla villankeltase. Boh, una grande problematica che ha Seven Deadly Sins e che io mi ci trovo veramente d'accordo, fondamentalmente come anime e come manga ma soprattutto come opera è una delle più grandi sole mai uscite da non so quanti anni ormai a questa parte. Sì raga, è una sola. Perché se ci pensate bene, il background narrativo dei sette peccati capitali è stato letteralmente sminchiato. Potete dirmi quello che volete ma i peccati Meliodas, Ban, Dien, King eccetera eccetera, Escanor, Merlin, non rispettano minimamente il peccato di appartenenza se non per una minima parte. Che a mio avviso non è sufficiente. E trovando il supporto anche di Giorgio, lo Giorgio l'ha proprio distrutto Seven Deadly Sins. Io qualcosa salverei, ma Giorgio l'ha proprio disintegrato. Ma l'ha disintegrato non perché, come vi ho detto, è uno stupido che si alza la mattina e decide che queste cose non vanno bene. C'ha un fattore critico che pochi hanno, perché non so quanti di voi scrivano manga e vengano pagati per scrivere manga, che abbiano fatto degli studi in Giappone, che siano stati a stretto contatto con mangaka, che lavorano tutti i giorni su tavole. Quindi forse il suo parere è un po' più autorevole del buteletto tredicenne che ha come avatar su YouTube Meliodas o Ban e che non ha voglia minimamente di ascoltare nessun tipo di video e che No, ma è il mio buon appetito preferito. Ma va bene così, da questo punto di vista. Il problema però dell'opera dove sta? Seven Deadly Sins sarebbe potuto diventare un degno successore di Berser. Questo perché ormai nel periodo in cui ci troviamo siamo sommersi da battle shonen, da shonen classici eccetera. Cosa che non è per forza negativa, io li adoro, mi piacciono. Il background e l'ispirazione della mitologia che c'è dietro all'opera di Seven Deadly Sins poteva essere raccontata in un modo molto più crudo, molto più bello e non essere sminchiata da un punto di vista narrativo così... Il maiale mi sta sui coglioni. Come si chiama il maiale? Non mi ricordo più. Maiale Seven Deadly Sins... Oak, esatto, quel bastardo lì, quello lì. L'autore dell'opera che adesso devo leggere perché non ricordo, Nakaba Suzuki, come la moto, probabilmente è stato accattivato più che altro dalla storia dei sette peccati capitali che sono apparsi anche nell'opera di Dante Alighieri. Ha visto il potenziale narrativo e ha detto ok io adesso qua devo sfruttare qualcosa perché è palese che Suzuki non si sia minimamente interessato di quello che c'è dietro alla costruzione di questi peccati, cioè cosa siano, per quale motivo siano così importanti, eccetera. Ha visto che suonavano bene e ha voluto farci uno shonen sprecando così il grandissimo potenziale che avrebbe avuto quest'opera. Perché nonostante sia famosa sarebbe potuto essere ancora più famosa se solo si fosse improntato da un punto di vista professionale in un modo diverso durante la stesura dell'opera, del manga in generale. Perché il background per creare qualcosa di molto figo c'era. Un'altra critica che effettivamente potrebbe essere interessante da muovere a il design degli ambienti che sono stati scelti nella trasposizione dell'opera è legata al miscuglio di generi che non hanno niente a cui vedere insomma se li metti insieme. Cioè è un po' come mangiare i cavoli a merenda. Le strutture principali dell'opera hanno dei riferimenti al medioevo tedesco, teutonico o comunque insomma centro-europeo con elementi totalmente diversi, mezzi fantasy strani. Questa parte qua mi piacerebbe ampliarla con Giorgio del design degli interni, lo sposare bene ovviamente gli elementi narrativi dell'ambiente con quello che si sta vedendo. Diciamo coesione, personaggio, evento, storia temporale. Insomma è una roba un po' particolare. Con tutti sti colori accesi super mega... cioè no. Io avrei preferito sì un'ambientazione così, nel senso così per modo di dire, cioè ambientazione medievale, fantasy ma più cupa, più dark, più gotica. No con donne sempre mezze nude, che armor più 50.000, come nei JRPG o negli RPG classici che più nuda sei, più protezione hai. Ma vabbè quello è il meno, cioè non è che... Il problema alla base è che Seven Deadly Sense, se tu la vedi con quest'ottica, è effettivamente e a un livello fattuale un'occasione sprecata. Un altro shonen di cui non se ne aveva bisogno, perché che ne tanti. Mancano seinen seri medievali. Poi boh, tutti sti sorrisi, tutta sta gente che ride e mi sta sulle valli. Non lo so, una cosa che mi piacerebbe fare, ragazzi miei, sarebbe che voi poteste dirmi, ovviamente la vostra qua sotto nei commenti, soprattutto se non siete d'accordo con questa mia versione e versione di Giorgio. E io potrei prendere questi commenti, queste critiche, queste confutazioni, al mio punto di vista e a quello di Giorgio, e io potrei realizzarci un video in collaborazione con Giorgio, proprio un video magari live dove leggiamo questi commenti e rispondiamo a quelli più argomentati, cercando di ovviamente specificare meglio alcuni aspetti che magari io qui appositamente non ho trattato troppo nel dettaglio, perché se no il video sarebbe veramente tanto lungo e più che altro io non ho ovviamente le competenze da disegnatore, come dico sempre, per poter analizzare meglio alcuni aspetti. Io ho l'esperienza, ma ho la coscienza di dire ragazzi questi sono i miei limiti, io non parlo a Vanvera. Sappiate solo che io tra i due, tra me e Giorgio, sono quello che ci va meno pesante forse sull'opera, perché diciamo che a me non è che mi sia dispiaciuta, ma sotto certi punti di vista è vero, è uno spreco gigantesco ed è... non si può non vedere queste cose così secondo me. Se tu fai un passo indietro e guardi non questo manga, ma l'insieme dei manga in cui ci troviamo noi adesso, e cosa sarebbe potuto essere quest'opera? Comunque, come detto, vi invito a dirmi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se siete in disaccordo vi invito come sempre a mantenere rispetto e a commentare, perché come detto ci farò un video sui commenti più belli. Detto ciò, in descrizione trovate anche i link, come detto, di Giorgio, se volete andare a fare un salto da lui, fidatevi, merita molto, molto bravo. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Da qui a Google è tutto, in una prossima live, insomma vedete voi. Statemi bene, mi raccomando, e boh, ciri ciri ciao, non so, ciao. Grazie.